Oggi abbiamo denunciato in aula durante il provvedimento sulla pubblica amministrazione e sull'innovazione e la digitalizzazione del PNRR che già nel 2019 la Corte dei Conti aveva denunciato da parte di Lazio Crea l'acquisto su fornitori di software house di software mal programmato a prezzi fuori mercato. Ora sarebbe il caso che Zingaretti dia delle spiegazioni a riguardo. No, ci crediamo, non terroristico sicuramente no, come dicono gli esperti è stato un attacco per riscatto per cui hanno sequestrato i dati, li hanno criptati e con quelli chiederanno il riscatto. Ma sono, è una forma di crimine informatico comune, io pure l'ho subito con la mia pagina Facebook hanno fatto la stessa cosa sempre dalla Germania, probabilmente dei ragazzi di origine turca mi hanno mandato la richiesta di riscatto, poi attraverso la polizia digitale e Facebook siamo riusciti a risolvere. Ma in questo caso chiamare all'attacco terroristico, allo scontro alla guerra informatica magari a una terza guerra digitale per chiarire invece e coprire eventuali altre responsabilità noi chiediamo chiarezza, l'abbiamo fatto in aula, l'abbiamo fatto con i nostri consiglieri regionali e ora aspettiamo una risposta. La denuncia della Corte dei Conti è inquietante perché un anno prima, due anni prima di quello che si è verificato denunciava grande confusione nella gestione software dei sistemi di Lazio Crea che è la società in house che come sappiamo gestisce il sistema informatico che è stato hackerato.